Grazie di questa presentazione, ma vi devo dire che sono emozionato perché sono davanti a mille persone, mille persone sono più o meno i cittadini del mio comune, quindi questa sera è interessantissimo, è come parlare a tutti i miei cittadini contemporaneamente. Vi devo dire che forse è inusuale che un sindaco sia su un palco di un TEDx, però vi devo dire anche che non so quanti lo sapete, ma in Italia i comuni sono circa 8.000, di questi 8.000, 5.000 sono piccoli comuni e vi assicuro che impegnarsi in azioni concrete con i cittadini è meraviglioso e fare il sindaco è meraviglioso e spero di farvi intuire perché. Andiamo all'oggetto della serata, perché la World Mayor Foundation di Londra ha deciso di premiare con il Community Award un sindaco di un piccolo comune, San Bellino in provincia di Rovigo. Vorrei prendermi il merito di questo risultato, ma non lo posso fare. È il risultato di relazioni con i cittadini, con gli amministratori, con i dipendenti, che ho coinvolto in una visione non legata all'oggi, ma già al domani e al dopodomani, con un'idea che voleva creare delle azioni amministrative in cui i cittadini diventassero coprotagonisti e corresponsabili del bene comune. Anzi, ho pensato che il benessere civico aumenta, cresce nella misura in cui il cittadino viene responsabilizzato e responsabilizzandolo si occupa di una cosa che si chiama comunità. Tutti noi sappiamo che cos'è una comunità. È fatta di beni materiali, ma anche di beni immateriali. L'aiuto reciproco, fare azioni verso la cosa pubblica, impegnarsi in azioni e progettazione di attività pubbliche. Cioè il cittadino ha un potere, ma deve esserne consapevole. E dobbiamo anche dare a lui gli strumenti, anche nuovi, per poterlo esercitare. Nel 2014 tutto inizia. Decido di candidarmi a sindaco con uno slogan, perché volevo fare il sindaco in un modo diverso. Lo slogan era il tempo della delega è finito. Ho scelto una squadra di giovani con competenze diversificate, chi ingegnere, chi avvocato, chi medico, chi imprenditore, chi studente universitario e con loro ho immaginato il comune come un laboratorio del futuro, in cui le azioni progettuali e le azioni amministrative dovevano essere tarate anche per poter essere applicate nei quartieri e nelle periferie della città, in cui necessariamente il cittadino doveva esserne parte progettuale interna. Quindi una sorta di forzatura apparentemente, perché in ambito pubblico di solito si stanziano le risorse e si fanno i progetti. nella visione che abbiamo avuto, in realtà l'opera pubblica è sì fondamentale, ma è molto più importante il percorso educativo e formativo del cittadino all'interno di questo percorso in cui lui diventa attore, protagonista e può essere elemento fondamentale anche nella progettazione. L'obiettivo che abbiamo messo in gioco era proprio quello di immaginare che nell'ambito pubblico di solito non si ragiona per proclami, ma si ragiona per atti e abbiamo cercato un modo per trasformare, rispettando la legge, i semafori della pubblica amministrazioni rotonde. Provo a raccontarvi qualche esempio. Siamo nei due anni della pandemia che tutti abbiamo conosciuto, due anni tremendi, in cui le persone si trovavano in una situazione, tutti noi ci trovavamo in una situazione di prostrazione importante, i pensieri non riuscivano ad essere ricchi di ottimismo. Dovevamo trovare un modo per ridare energia, speranza ad una comunità. E per fare questo, guardando sempre le immagini televisive, le persone si sentivano oppresse da quell'orrore. E anche il linguaggio, dire distanziamento sociale piuttosto che dire distanza di sicurezza, il linguaggio è un macigno sulle relazioni e noi volevamo lavorare sulle relazioni. L'idea ci è venuta da un appello di un florovivaista. I florovivaisti in Italia sono 27 mila. Un florovivaista non poteva in quel periodo del lockdown vendere i propri prodotti e si è trovato di fronte a fare un appello sia sui giornali che sui social in cui diceva devo chiudere perché non riesco più ad andare avanti. Allora ci venne un'idea, come fare ad aiutare i cittadini a restare a casa e contemporaneamente aiutare un imprenditore che aveva fatto questo appello, era un mio ex studente, lo chiamai e gli dissi spiegami un attimo, in due settimane devo buttare tutto al macero. Quindi lo chiamai e gli dissi io ti comprerei tutto quello che tu hai, a un prezzo chiaramente concordato e simbolico, perché voglio donarlo ai cittadini. E questo abbiamo fatto, arrivò con un camion pieno di bellezza, di fiori, di ortaggi e i volontari e le volontarie realizzarono quella che si chiama la cassetta delle coltivazioni. L'abbiamo chiamata in questo modo, cioè abbiamo donato ad ognuna delle 400 famiglie del mio comune una cassetta con una lettera firmata a mio nome in cui c'era scritto, metti questi fiori o sul tuo terrazzo, sul tuo balcone, nel tuo giardino, perché facendo questo in realtà rendi bello il tuo paese e facendo questo in realtà coltivi buoni pensieri. Coltiva la terra per coltivare buoni pensieri, gli dà un senso così al tempo che sei costretto a vivere a domicilio. Fu un quantitativo di ricchezza, di colori all'interno della comunità che l'esempio diventò così interessante che fu preso in esame da altri comuni. Il comune di Padova, 200.000 abitanti, poi i giornali nazionali lo ripresero e l'idea divenne virale. Quell'imprenditore decise, dopo quell'esperienza comunitaria, di non licenziare nessuno dei suoi dipendenti. Questo vale anche in progettazioni che possono essere legate ai lavori pubblici, sportive o anche in ambito legato all'ambiente. Mai come oggi noi sentiamo parlare di cambiamenti climatici, ne siamo tutti purtroppo coinvolti. E anche qui una domanda che mi è nata, perché in realtà mi chiamano il sindaco degli alberi irridendomi, ma io devo dirvi che ne sono felice. Ho deciso di provare a trovare un modo ponendomi una domanda che era questa. Come può un piccolo comune fare qualcosa per creare meccanismi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici? Da solo può fare molto poco, ma se si coinvolgono i cittadini del proprio comune e quelli di altri comuni questo si può fare. Quindi decidemmo di realizzare un progetto che si chiama Ridiamo il sorriso alla pianura padana una forestazione in proprietà privata. Questo progetto in realtà è un progetto open perché può essere applicato a tutto il nord Italia, a tutta la nostra pianura. Andai anche qui a Bologna alla sede della regione Emilia Romagna a incontrare un assessore che per spiegare il progetto ne rimase colpito, perché in realtà all'inizio decidemmo in tre province e dieci comuni di metterci insieme comuni appartenenti anche a indicazioni politiche diverse perché non volevamo che fosse una bandiera a determinare il valore di quel progetto e abbiamo deciso di donare ai cittadini di questi dieci comuni tra Rovigo, Padova e Vicenza piante da per piantare nella propria proprietà privata. Ne donammo 20.000. Queste piante in realtà andando nelle proprietà private hanno praticamente annullato i costi futuri dell'ente pubblico per la manutenzione. Il progetto funziona, la regione Veneto decide di farlo proprio, incarica il proprio vivaio regionale di produrre 70.000 piante e donarle. I cittadini in 40 giorni hanno richiesto quelle 70.000 piante, altre 70.000 l'anno successivo e anche lì sono andate immediatamente richieste da parte dei cittadini. 350 comuni coinvolti e questo progetto che risulta essere una sorta di forestazione condivisa di pianura funziona. In realtà la cosa molto bella è che l'aria non si ferma ai confini delle proprietà private e il vantaggio è per tutta la comunità. Inoltre se cambiasse l'amministrazione e risulti essere un'amministrazione non sensibile al verde, automaticamente non può incidere e venire a tagliare gli alberi che qualcuno può aver piantato nella propria proprietà privata. Quindi questo progetto funziona. Ve ne voglio presentare un altro a cui tengo molto. Voglio realizzare un comune senza barriere architettoniche. Per fare questo in realtà qualche anno fa mi serviva la realizzazione di un piano, si chiama PEBA tecnicamente, Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ma l'obiettivo è quello di fare in modo che i luoghi siano accessibili. E questo è bellissimo, pensate a 8.000 comuni, pensate se tutti adottassero un piano vuol dire che ogni azione che viene fatta all'interno di questo comune permette a ciascuno di noi di accedere ovunque. Ecco, questo piano in realtà nel momento in cui volevo farlo fu il primo nella provincia di Rovigo e non sapevo a chi chiedere. A un certo punto decisi di chiamare il comitato parolimpico e gli chiese avete qualcuno? E loro mi dissero sì, abbiamo un architetto che ha già fatto esperienza e venne a trovarmi in comune. In realtà quando arrivò, vi assicuro, io vidi la sua auto che mi piaceva moltissimo, però un sindaco a volte pensa ai soldi e automaticamente al bilancio è la prima cosa che ho venuto in mente è stato chissà che parcella mi presenterà. In realtà succede questo, apre la porta della sua auto, la prima cosa che scende da quell'auto è la sua carrozzina e con quella carrozzina arrivò nel mio comune. Lo accolsi, dovete accoglierlo al piano terra perché non avevo modo di farlo arrivare ai piani superiori al mio ufficio. Mi mancava un ascensore. Lui mi fece quel piano, me lo fece anche per un prezzo simbolico quando gli raccontammo un po' le nostre idee, la nostra visione. Però quell'ascensore dovevo farla e doveva essere la prima cosa da fare, togliere le barriere nella casa di vetro, nella casa di tutti che è il municipio. E allora decisi di scegliere una strada. avevo i soldi per realizzare quell'ascensore, li avevo, ma ho deciso di richiedere alla regione un terzo di quei soldi, un terzo l'ha messo comune e un terzo doveva arrivare dai cittadini che comprendevano il valore di quel percorso che stavamo iniziando. Arrivarono donazioni dalle famiglie, dalle associazioni, dal centro anziani. Arrivò anche una donazione da un signore della provincia di Bologna, un imprenditore che mi fece una donazione cospicua, tanto che io a un certo punto decisi di venire a trovarlo perché volevo capire il motivo perché aveva deciso di donare denaro al mio piccolo comune. Andai da lui e parlamo e mi raccontò che in una fase della sua vita dovete spingere la carrozzina con sua moglie e si accorse della difficoltà di barriere, cosa voleva dire avere delle barriere sul territorio. E a un certo punto quando ci lasciamo mi disse andate avanti, vedo che le cose le fate. Quindi quando in realtà si inserisce necessariamente il cittadino all'interno di progetti di valore, funziona. Abbiamo fatto la stessa cosa per cercare un modo per coinvolgere i cittadini in un referendum, un propositivo. Abbiamo deciso di cambiare e di aggiungere delle vie all'interno del comune. Però abbiamo detto facciamo un referendum in cui tutti possono votare dai bambini agli adulti perché lo scopo fondamentale era che ognuno in una lista di personaggi potesse comprenderne il valore e poi essere copartecipe e corresponsabile del nuovo assetto della toponomastica e del nuovo assetto del territorio. Facciamo questo e fu una cosa interessantissima perché tutti diventarono consapevoli di ogni via e dei suoi nomi. In più vi devo dire che nel momento in cui si mette insieme un progetto condiviso e si trovano occasioni di incontro tra le persone che ragionano su quel progetto condiviso, si alimenta e si sviluppa la ricchezza relazionale che è il grande patrimonio immateriale che deve essere sviluppato ed è presente nelle nostre comunità. È generativa, è come il lievito in una buona torta. È in qualche modo la capacità di poter trasformare una società, un comune, una comunità da sempre più virtuale a sempre più reale ed è fondamentale perché questo cambia il rapporto, cambia le dinamiche. Quindi un'idea condivisa, competenze in relazione tra loro, ognuno deve sapere il valore dell'altro, ognuno deve avere chiaro il suo apporto per raggiungere l'obiettivo comune e condiviso. Funziona, funziona. Poi vi devo dire che c'è anche chi non vuole farsi coinvolgere, anzi arriva e vuole in qualche modo trasmetterti tutti i suoi problemi, lamentele. Quindi qui bisogna a volte agire con dei correttivi, a volte con dei correttivi creativi. Ve ne racconto uno. Ne abbiamo applicati vari. Uno di questi è fatto in questo modo. Quando arriva una persona agitata che vuole incontrarmi all'interno del municipio, i dipendenti mi avvertono. Poi lo fanno salire e lo fanno accomodare a delle sedie che ho posizionato proprio davanti alla porta e sulla porta ho messo questo cartello. Mentre attendi per entrare con un problema, pensa a possibili soluzioni. Io attendo qualche minuto e lui nel frattempo con il desiderio di entrare continua a guardare quella porta e a volte guardando quella porta inizia a lavorare in qualche modo in un suo dialogo interiore e quel dialogo interiore lo porta anche a prendere delle decisioni. A un certo punto mi capita di aprire quella porta e lui quando entra mi dice sindaco io ho questo problema però avrei pensato che si potrebbe con questa soluzione. E quindi ti accorgi che a volte devi in qualche modo solo dare valore e visibilità alla sua scelta e altre volte invece ricercare da altre realtà perché per aiutarlo, per stimolarlo, altre realtà virtuose. E difatti io dico sempre che è vietato non copiare le cose che funzionano, vanno copiate e se possibile migliorate. Ecco e questo in realtà in anni io ho visto che la gente passo dopo passo inizia a cambiare, inizia a pensare che la propria proprietà privata non si ferma al proprio cancello di casa e questo è qualcosa di straordinario ed è il mantra su cui come amministrazione io ho scommesso. Questo approccio inclusivo in realtà rende ogni cittadino un primo cittadino ed è straordinario perché sia i bambini dai bambini agli adulti ed è emozionante quando ti accorgi che questa dinamica prende forma. Ecco per concludere vorrei dirvi che c'è posto per tutti, nessuno escluso in un progetto come questo e mi auguro che in noi ci sia la speranza in qualche modo di ritagliarsi un po' di motivazione del tempo e dello spazio per poter agire rispetto ai beni comuni perché dalla qualità dei luoghi comuni dipende la qualità della vita di ciascuno di noi. Vi ringrazio, buona serata e buona continuazione.